salve a tutti io sono alessandro saracino ed oggi per la nostra rubrica letteraria vi presentiamo una lettura di bruno baldassarri autore del libro non chiese più niente pubblicato nel 2019 da felici editori prima di addentrarci nella lettura dell'opera mi sento in dovere di presentare brevemente l'autore e l'opera stessa bruno baldassarri nasce nel 1941 in provincia di grosseto dedica tutta la sua vita all'insegnamento in particolare all'insegnamento della musica nelle scuole tant'è che il suo metodo di insegnamento sarà utilizzato da molte scuole toscane nei corsi d'aggiornamento dei propri docenti oltre ad essere autore di libri bruno baldassarri è anche autore di canzoni per bambini di opere teatrali per la scuola dell'infanzia ed ha composto inoltre le musiche ed i testi per il musical i ragazzi di donzeno il maestro inoltre ha già pubblicato raccolte di poesie libri per ragazzi e per il teatro e saggistica questo è il suo primo romanzo dal titolo non chiese più niente questo romanzo storico è ambientato nel grossetano terra natale dell'autore durante l'ascesa del fascismo all'interno dell'opera si intrecciano le vicende di due giovani ragazzi ma non mi addentro ulteriormente nella descrizione dell'opera onde evitare spiacevole anticipazioni e lascio la parola all'autore buon ascolto mi chiamo bruno baldassarri e ho il piacere di leggervi alcune pagine della mia prima opera in prosa il romanzo di circa 300 pagine si intitola non chiese più niente ed è stato pubblicato da felici editore di pisa capitolo primo vita di borgo uscì sulla strada e fece qualche passo evitando le pozze d'acqua torbida che la recente pioggia aveva formato lungo la siepe che fiancheggiava la strada si sonodavano come tanti piccoli serpenti corvini usciti dal fango alla luce del sole le vitalbe da cui pendevano lucide gocce d'acqua che si allungavano lentamente finché troppo pesanti cadevano a terra rompendosi giù sotto la siepe il campo di franco che a luglio ricoperto di carote selvatiche con le loro infiorescenze bianche sembrava un grande lenzuolo steso ad asciugare il sole scendeva nella vallata più lontano le colline rivestite da una fitta boscaglia si perdevano nel cielo velato e disegnando l'orizzonte si stavano tingendo di un tenue rossore crepuscolare dino osservò tutto con attenzione perché appena uscito di casa gli era sembrato che l'aria e tutte le altre cose che lo circondavano fossero mutate come per incanto poco prima sotto l'acqua battente della pioggia la strada gli alberi la valle e i colli gli erano apparsi dolenti e tristi mentre adesso con il sole che li stava asciugando ed illuminando gli sembravano sereni e sorridenti era convinto che anche la natura avesse una sua anima e una sua sensibilità pensava credeva che ogni elemento della natura che ogni oggetto avesse un suo flusso vitale sensibile e fosse in costante contatto con tutto il resto anche con gli esseri umani nella sua mente si era fatta strada l'idea che la terra con tutti i suoi elementi con tutti i suoi fenomeni ed eventi avesse un legame intimo congenito con l'essere umano e che natura ed uomo fossero addirittura un tutt'uno sottoposto alle leggi del mutamento e della trasformazione per cui vivere significava per lui essere immersi nell'armonia del creato nella fisica del reale nell'universalità del molteplice ed esserne parte integrante per lui non esisteva la contrapposizione tra uomo e natura e la vita degli uomini doveva essere considerata non solo nella storia nel tempo ma anche nello spazio nella natura che tanti influssi aveva sui sensi sugli umori e sui sentimenti di ogni individuo